Dallo 2008 a Gela, capo della Procura della Repubblica del Tribunale, Lucia Lotti, originale di Firenze, lascia per un nuovo incarico. Sarà il procuratore aggiunto di Roma. Ritorna nella capitale, dove per 17 anni ha svolto incarichi importanti alla direzione distrettuale antimafia, con una specializzazione elevata nella materia dell'usura, del traffico internazionale di droga e della criminalità organizzata. Lucia Lotti è in magistratura dal 1981. Dal marzo del 1983 all'ottobre del 1986 è stato operatore a Monza. Dall'ottobre del 1986 all'ottobre del 1989 identico incarico lo ha svolto a Rieti. Dall'ottobre del 1989 al gennaio del 1998 ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso l'apertura circondariale di Roma, salvo il periodo di applicazione extradistrettuale dal 1995 al 1996 presso la Procura di Milano. Dal gennaio del 1998 è stato sostituto procuratore al Tribunale di Roma e dal dicembre del 1999 è stata assegnata alla direzione distrettuale antimafia della capitale. Lucia Lotti nella città del Golfo si è ambientata perfettamente e questa mattina, durante l'incontro con i giornalisti, si è commossa ogni qualvolta ha parlato di Gela. Dopo tre anni dal suo insediamento, così come prevede il regolamento, avrebbe potuto chiedere il trasferimento, ma non l'ha fatto. Gela, ha detto, è straordinaria. Il procuratore Lotti è stato un punto di riferimento. Ha svolto con immensa bregazione il suo lavoro grazie al proficuo contributo delle persone che le sono state accanto, dai rappresentanti delle forze dell'ordine ai giudici del Tribunale. È sempre stata al fianco dei cittadini e degli studenti. Proprio in occasione della giornata internazionale delle donne dello scorso 8 marzo, un'intera classe del plesso Paolo Emiliani Giudici ha indicato in lei il personaggio femminile della città. Numerose le inchieste che portano la sua firma, da quella sull'inquinamento ambientale, a quella sul disastro innominato che vede alla sbarra 22 indagati, tra i quali altri dirigenti della raffineria Eni, dal contrasto dello spaccio di droga al fenomeno della racket, delle estorsioni e dell'usura. Tanti i procedimenti che hanno portato poi alla condanna degli imputati. In merito proprio al procedimento giudiziario contro i 22 funzionari del gruppo Eni, la Procura ha chiuso le indagini che riguardano un periodo di quasi 10 anni. Le attività di bonifica non sono state mai realizzate con il conseguente disastro ambientale. Un materiale di indagine enorme, come ha sottolineato lo stesso procuratore, in grado di assorbire anche sentenze già passate in giudicato. A breve sarà fissata la relativa udienza preliminare. Un lavoro immane che, ha ribadito Lucialotti, risponde alle sollecitazioni che continuano ad arrivare dalla città.